Il primo è stato fatto interamente da questi ragazzi. Per questo vorrei dare la parola all'alunno Mattia Cotto che presenterà i vari interventi. Anche io sono benvenuto, i giornali ci sono in qualità ma purtroppo abbiamo parlato alle spalle, non sono affatto sicuro quindi se faranno i metri strani, risatevi. Allora, anch'io, appunto, io e anche loro, siamo contenti che siete venuti e vi dobbiamo illustrare il nostro progetto perché in fondo è durato quasi tre anni e quindi siamo orgogliosi di ciò che abbiamo fatto. Per cominciare ho subito la parola alla nostra preside che appunto ci illustrerà probabilmente anche il nostro progetto.